A quasi un anno dalla legge che ha ufficialmente chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari in Italia, molti restano i problemi aperti anche in Piemonte, dove è stato nominato un commissario. Se ne è parlato su iniziativa del garante dei detenuti negli spazi dell'URP del Consiglio regionale, dove è stato presentato il volume Robe da Matti, il difficile superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari di Michele Miravalle, avvocato e ricercatore dell'Università di Torino, edito dal gruppo Abele.